oggi 8 marzo festa della donna la bici di acquara desidera fare gli auguri a tutte le donne lanciando un nuovo prodotto il mutuo rosa il mutuo rosa nasce proprio dalla voglia di agevolare e quindi dare una spinta alle donne imprenditrici alle donne quindi titolari di partita iva alle donne e professioniste ci siamo resi conto analizzando gli ultimi andamenti che la pandemia ha pesato molto sul mondo imprenditoriale in particolar modo sull'impresa femminile e per questo che vogliamo premiare tutte le donne e lavoratrici che vogliono fare imprese in rosa nel nostro territorio il mutuo è molto molto agevolato a delle condizioni vantaggiose previsto un tasso fisso del 2 cento 50 per una durata massima di 5 anni e un importo massimo di 30 mila euro la peculiarità è che è prevista la sospensione per 12 mesi in caso di previdanza maternità quindi nascita o adozione di un figlio o per indisponibilità e disponibilità di fisica o economica sia della richiedente o del nucleo familiare noi vi invitiamo a recarvi in filiale per conoscere maggiori dettagli e auguriamo a tutti buona festa delle donne